un secondo dovremmo essere già in diretta esatto ottimo che lo condivido anche sul mio profilo e diciamo che ci siamo eccoci qua buonasera a tutti benvenuti alla centoventottesima serata di l'odi liberale che ormai dall'anno scorso ha deciso di abbiamo deciso di andare con cadenza settimanale per cercare di portare il nostro piccolo contributo nel dibattito pubblico presentando libri per appunto diffondere il pensiero liberale da ogni ambito in ogni ambito culturale politico economico filosofico sociale artistico scientifico e quant'altro perché crediamo che ce ne sia un disperato bisogno soprattutto in un periodo come questo ea partire dall'anno scorso abbiamo deciso di introdurre una novità di della stagione di questa stagione di l'odi liberale che quella della presentazione dei classici del pensiero perché siamo profondamente convinti che leggere tornare leggere o rileggere i classici sia importante perché anche questi possono come dare un contributo rilevante in un'epoca in cui la libertà è probabilmente poco apprezzata questa volta abbiamo fatto abbiamo deciso di coinvolgere innanzitutto di presentare un libro appunto saggio sulla libertà on liberty sulla libertà la libertà saggio sulla libertà è stato tradotto in molti modi all liberty di john stewart bill che è uno dei testi probabilmente più classici per chiunque poi abbia la voglia di approcciarsi di avvicinarsi al pensiero liberale personalmente è il primo classico che ho letto ma il credo più di ben più di ben più di vent'anni fa perché per mille motivi è il il primo il primo volume per i motivi che poi scopriamo nel corso della serata perché difende sostanzialmente la libertà di opinione e il contanna il paternalismo di stato insomma è un testo tendenzialmente importante di un autore che è complesso e che va riegato e che poi scopriamo durante la serata se può essere definito come un liberale a 360 gradi la risposta personalmente è negativa ma poi lo scopriremo nel senso che questo testo sicuramente sì io non l'edizione ne parlavamo prima dell'inizio della serata la diretta quella che è uscita con libero qualche anno fa con la preparazione di antonio martino che si focalizza esattamente su questo aspetto cioè elogiandone il testo per mille motivi ma criticando in generale le concezioni principalmente economiche di john mil che probabilmente da questo punto di vista potrebbe essere più definito un libera che un liberale e spesso in italia si fa poca attenzione all'importanza di una vocale che in questo ambito invece è assolutamente essenziale a differenza del solito quando tendenzialmente invitiamo professori universitari o altro abbiamo deciso di fare una scelta coerente e quindi di invitare tre giovani molto attivi sui social credo entro tutti e tre si definiscano liberali di due ne sono certo di rick du fer lo dopo è scontato è troppo intelligente per non essere non mi consentirete questa questa battuta quindi sicuramente sono tre persone che hanno a cuore la divulgazione delle idee in primo luogo e l'amore per la libertà riduver credo che non abbia bisogno di presentazione un bucato ruolo soprattutto numerosi podcast un canale youtube seguitissimo principalmente da da giovani ma non solo e fa un lavoro da questo punto di vista ormai da anni ed è una delle personalità più influenti in questo tipo di divulgazione non di bagianate mettiamola così ma dire divulgazione di divulgazione seria in maniera mi permetterà leggera ma che non vuol dire non seria riesce a trattare tematiche importanti come capiremo anche questa serata con un luaggio adatto a tutti e che permette appunto di avvicinare anche i profani le persone non acculturate non esperte che magari non hanno letto alcuni testi anche a pensatori molto importanti ha fatto un ciclo di podcast sulla società aperta e sulle bici che abbiamo presentato qualche settimana fa anche da noi quindi siamo orgogliosissimi e felicissimi che abbia debuttato e speriamo che sia il primo di una lunga serie nelle nostre serate quindi ringrazio riche du ferro riccardo dal ferro per l'anagrafe ma insomma come vedete la preferenza è per il nome d'arte eh ringrazio una persona che invece è un'amica di nodi liberale da un po' di tempo è già venuta molte volte nell'occhio del ciclone Elisa Serafini eh per mille motivi eh è una liberale anche lei d'ocche credo che adesso si occupi ancora della della parte della comunicazione dell'associazione Luca Coscioni ha fondato un'associazione forum economia innovazione ha fatto anche attentato ed è riuscita meritoriamente a portare a termine un impegno politico essendo eletta a Genova eh e poi ricoprendo il incarico di assessore alla cultura e al turismo in questa straordinaria grandissima città per poi lasciare eh per mille motivi diciamo disgustata da alcune pressioni da alcune divergenze di opinioni ci ha scritto anche un bellissimo libro che si chiama fuori dal comune e credo che sia una donna che ama la libertà da quando ha non lo so i calzocini corti si dice per i uomini non so come si dica per le donne ma insomma ci si è capiti da quando era molto molto più perfetto ok e perché è l'occhio del ciclone perché io lo dicevo anche qui prima dell'inizio della serata ho voluto leggere sei volte questa notizia è stata citata perché insomma è stata accusata qualche anno fa di fare iniezioni di ormoni ai bambini per farli diventare gay eh vi assicuro che non è una una battuta cioè c'è una persona una candidata di un partito poi sarà Elisa Serafini lo spiegherà che eh durante la campagna elettorale è andata in giro a mettere in giro queste voci su Elisa Serafini io credo che veramente al mh all'imbecilità ci sia un limite in questo caso è ampiamente superato perché questa cosa veramente mi mancava e perché nell'occhio del ciclone perché è stata ricordata da da Fedez in questo periodo quando sul palco del primo maggio ha citato varie accuse di vari episodi di omofobia di condanne eccetera a letto poi di cosa pensare del dibattito e credo che ci sarà anche occasione durante la serata però insomma questo episodio se non l'avete saputo guardatela faceva le iniezioni ai bambini di ormoni per farli diventare gay è una lobby gay insomma finanzia e noi dobbiamo rispettare il suo volere quindi sapevo il complotto demopluto giudaico massonico mi mancava questo questo mi manca quindi grazie Elisa per essere tornata e e poi devo ringraziare devo confessare il mio presidente eh perché io ho deciso dall'anno scorso di iscrivermi all'istituto liberale di cui è presidente Alessio Cotroneo che sta facendo con il suo staff di giovani un lavoro straordinario di eh diffusione delle idee liberali con infografiche con un lavoro sui social che è eh eh straordinario eh da tutti i punti di vista sia per la qualità sia per la coerenza che per l'affrontamento che per la varietà ma soprattutto per il seguito che riesce ad avere eh presso le generazioni di ragazzi che sono quelli più difficili da avvicinare al pensiero liberale ma che sono quelli che se si avvicinano poi difficilmente se ne staccano perché lavoro per la libertà coltivato da piccoli poi ti porta eh fisiologicamente a mantenerlo nel corso degli anni è un un lavoro che sta facendo in maniera eh egregia peraltro pubblicando e traducendo anche testi eh liberali ripubblicandone facendo le nuove traduzioni quindi chiunque lo conosca l'istituto liberale vada subito sui vari social Facebook e Instagram e qualunque altro perché eh meritano di essere seguiti sono cresciuti tantissimo e ne faranno ancora tanto. Quindi grazie al mio presidente, grazie Alessio eh di essere qui con noi questa sera. Giustro e Neil sulla libertà. Ma io potrei come al solito citare mh alcune citazioni no? Eh perché ci introducono mh sul tema che affrontiamo questa sera. Il solo scopo per il quale l'umanità è giustificata di interferire individualmente o collettivamente la libertà d'azione di chiunque è quello di autoprocedgersi. Il solo scopo per il quale si può legittimamente esercitare un potere su un qualunque membro di una comunità civilizzata contro la sua volontà è quello di impedirgli di morire agli altri. Il bene fisico morale di quest'individuo non è una giustificazione sufficiente. Non lo si può costringere a fare o a non fare qualcosa perché è meglio per lui, perché lo renderà più felice, perché secondo l'opinione altrui ciò sarebbe più saggio o perfino più giusto. Queste sono buone ragioni per fargli qualche rimostranza, per ragionare con lui, per convincerlo, per supplicarlo, ma non già per costringerlo o per recargli alcun male quando agisce altrimenti. Per giustificare questo oppure che l'azione da cui si desidera distoglierlo si è intesa ricordarlo ad un altro. Il solo aspetto della condotta di un individuo per il quale egli deve rispondere alla società è quello che riguarda gli altri. Per ciò che concerne soltanto lui, la sua indipendenza è di diritto assoluta. Su se stesso, sul suo corpo e sulle sue mente l'individuo è sovrano. Sono parole che dovrebbero essere scolpite in ogni aula parlamentare, come dire, a futura memoria per evitare di fare leggi di paternalismo vario in ogni ambito, di cui sono piene le legislazioni nel nostro Paese. Non credo che sia una pena sottolinearlo. Ma è importante chiarirlo perché, al netto del concetto di libertà negativa, quindi non è sicuramente quello, non è stato il primo che l'ha introdotto, ma il condannare le leggi o le imposizioni semplicemente perché si pensa di avere da un piedistallo di conoscenza, se volete, dal punto di vista, appunto, museologico, se vorrebbe da dire, da parte dei politici, dei legislatori che pensano di sapere cosa è meglio per te e non solo te lo raccomandano, perché siamo in un Paese in cui nelle norme si sono finiti ogni riferimento ai DPCM dell'anno scorso, oppure le raccomandazioni. Non solo te lo mandano come raccomandazione, ma te lo impongono perché sanno ciò che è meglio per te. E questa cosa, come dire, è sempre da ricordare perché ce ne dimentichiamo troppo spesso. L'unica libertà degna di questo nome è quella di perseguire il proprio bene, a proprio modo, fino a che non cerchiamo di privare gli altri della loro o di ostocolare i loro sforzi per ottenerla. Ciascuno è il guardiano naturale della propria salute, sia fisica, sia mentale e spirituale. L'umanità trae maggior vantaggio da lasciare che ciascuno vive come meglio gli sembra, che non dall'obbligarlo a vivere come meglio sembra agli altri. E in più, qui c'è l'ottica, poi lascio assolutamente la parola a Rick Dufer, che anche qui il concetto della tirannia della maggioranza e quindi del fatto che comunque se una minoranza in quanto tale, come se non abbia diritto di professare la propria opinione. E qui si arriva giustamente all'estremo, al ragionamento per estremo, che chiaramente anche se ce n'è solo uno che la pensa diversamente, non per questo gli deve essere impedito. La più piccola minoranza esistente al mondo è quella degli individui, per chi abbia detto minimamente in rende, dovrebbe, come dire, questa cosa essere di familiare. Se tutti gli uomini, meno uno, fossero di un avviso e solo questo uno fossero di avviso contrario, non avrebbero più diritto di far tacere quell'unica persona di quanto quest'ultima. Se ne avesse il potere, avrebbe diritto di far tacere tutti gli altri. Quindi è sicuramente un uno alla libertà di pensiero, alla libertà di opinione, alla libera discussione, per due motivi, non tanto su motivazioni, se volete passarmi l'espressione, giustaturalistiche, ma probabilmente in maniera, su basi utilitaristiche. Ma è un testo che merita di essere letto da chiunque abbia a cuore la libertà e cercheremo di scoprirlo questa sera con i nostri giovani divulgatori di idee e quindi partirei subito lasciando la parola a Rick Dufer, che ringrazio di essere con noi. Tanto grazie mille per l'introduzione e anche per l'invito. È un piacere, insomma, questo è un testo che io amo molto perché è il testo che consiglio a tutti quelli che vogliono iniziare ad aprire la mente su ciò che significa libertà fondamentalmente. Anche perché poi Mill ha questo aspetto interessante che riesce ad essere moderato su un tema che moderato non è, perché la libertà non è un tema moderato assolutamente, come cercheremo di vedere. Ci sono tanti altri autori che potrebbero essere di introduzione. A me viene in mente il mio amatissimo Lysander Spooner con I vizi non sono crimini, ma poi possiamo citare anche Ayn Rand. Però sono autori che secondo me vanno letti in una seconda battuta, perché sono autori che se incontri di primo acchito rischiano di crearti repulsione, se tu arrivi magari da una parte ideologica contraria, o rischiano anche di crearti confusione se magari non sei preparato. Quindi Mill è un'ottima introduzione, è proprio un testo leggibilissimo, uno di quegli autori che può leggere veramente i quindicenne e innamorarsene e cominciare poi ad entrare in un certo tipo di dibattito. Allora, il punto fondamentale, secondo me, la cosa più interessante è che fa di Mill una catena in un pensiero liberale vero, perché poi, come dicevamo prima, esiste liberale e liberale e credo che poi, insomma, Alessio parlerà anche di queste differenze all'interno dello stesso pensiero di Mill. Però indubbiamente One Liberty è un testo che si inserisce in una catena proprio liberale, nel senso in cui cerchiamo di sviscerare questa sera, in quanto parte da un presupposto che fonda la libertà e che è un presupposto difficilmente fraintendibile. Vi leggo anche il pezzo. Noi sappiamo che, nel caso delle nostre evoluzioni, non c'è quella misteriosa costrizione. Sappiamo che non siamo spinti, come da un magico incanto, a obbedire a qualche particolare motivo. Sentiamo che, se desideriamo dimostrare di aver la forza di resistere al motivo, possiamo farlo. Codesto desiderio, occorre appena osservarlo, è un nuovo antecedente e sarebbe umiliante per il nostro orgoglio, e ciò che più importa, paralizzante per il nostro desiderio di perfezione, pensare altrimenti. Cos'è che sta dicendo qui? Questa sta dicendo una cosa fondamentale che fonda la tradizione liberale a cui io sento di far riferimento, cioè l'idea che la libertà si fonda sulla volontà, su questo concetto di volizione. Perché è così importante? Beh, è importante per due motivi. È importante per un motivo storico, filosofico, ed è importante per un motivo molto attuale e politico. È importante per un motivo storico-filosofico perché, ovviamente, il concetto di volontà nell'ambito del pensiero liberale ha avuto un ruolo centrale. Ancora, se andiamo a leggere, già John Locke ne parlava ne parlava ampiamente, diceva che, cioè, cos'è che mi rende libero? Il fatto che io voglio, io voglio qualche cosa. E che cosa significa questo? Questo significa che laddove io vado a chiedermi cos'è che mi spinge verso un oggetto, un obiettivo, un miglioramento, un apprendimento, io so che sono spinto da tante cause, però alla fine dei conti, quando io vado a eliminare, fare pulizia fra queste cause che possono essere di vario genere, alla fine arriverò all'ultima causa con cui potrò fare i conti. Cioè, il fatto che sono io a volere quella roba lì. Voglio automigliorarmi, voglio migliorarmi nella lettura, voglio essere una persona che legge normalmente un libro all'anno, voglio arrivare ad essere una persona che legge 12 libri all'anno. Cosa mi spinge a fare questo? Beh, mi spinge sicuramente il fatto che c'è un'educazione intorno a me, il fatto che magari ascolto i video di Dirk Dufferi, il quale mi dice leggi, leggi, leggi e non fare il pigro, il fatto che il mio amico fa le citazioni fighissime al pub e voglio farle anch'io e tante cose mi spingono. Non ultimo il fatto che voglio fare colpo sulla mia vicina di casa, anche questa insomma è la spinta per farsi una cultura, però poi alla fine sono io, sono io a determinare quella serie di concause, mi porti a sforzarmi verso quella direzione. Il concetto di volontà quindi è fondamentale. Il fatto che sia io a volere quella roba lì comporta da un lato la responsabilità del risultato, se non riesco a leggere 12 libri quest'anno sono sempre io ad aver sbattuto la faccia contro un fallimento e sarò io a imparare per migliorarmi o a rendermi, ma soprattutto il fatto che in quella volontà, in quel piccolo barlume di azione non c'è il naso di qualcuno, l'occhio di qualcuno, o la volontà di qualcuno, che si mette in mezzo e in qualche modo snatura o dà una forma diversa quella mia volontà, perché quell'atto di volontà è il mio, è quello in cui mi determino in quanto individuo. E quindi questo ha a che fare con la storia della filosofia. Il concetto di volontà poi è esplicitato in mille modi, non ultimo insomma la volontà niciana che in qualche modo va a moltiplicare enormemente l'importanza di questo concetto in un certo modo di intendere l'uomo e poi c'è un ulteriore aspetto che è quello dell'attualità ed è ciò che secondo me rende mille e in particolare con Liberty un testo che andrebbe letto anche oggi nelle scuole. Oggi noi viviamo un'epoca in cui il concetto di volontà ancora prima di quello di libertà è messo sotto attacco in modo fortissimo, è messo sotto attacco da tanti punti di vista. Le neuroscienze sono un campo del sapere che ha cercato di creare e sta riuscendo a creare uno scetticismo fortissimo sull'idea che l'essere umano possa volere qualcosa. Perché? Perché le neuroscienze hanno ampliato enormemente il campo di quelle che sono le possibili concause del nostro agire. Sempre nell'esempio triviale della persona che vuole leggere 12 libri in un anno, è evidente che nell'epoca di mille, insomma nel 150 anni fa, quando uno si chiedeva ma perché mi sento spinto a questa cosa? Beh, le concause potevano essere quelle che ho elencato, educazione familiare, disponibilità economica, il fatto che uno ha tempo di farlo, che hai un interesse particolare. Adesso noi abbiamo un'artiglieria incredibile di analisi, dalle analisi genetiche, studi biologiche, neurobiologiche, studi che cercano di sviscerare il contesto, studi sociologici, abbiamo una montagna di concause, molte di più rispetto al passato, che ci permettono di restringere sempre di più il campo della possibilità di inserire in questo fenomeno l'idea della volontà. Cioè arriviamo a un punto in cui ci convinciamo che in fin dei conti, sì, possiamo raccontarci il fatto che uno ha voluto leggere quei dodici libri, ma in fin dei conti la volontà è, nella migliore delle ipotesi, un'approssimazione incredibile di quello che effettivamente siamo, nella peggiore una menzogna, una roba che ci raccontiamo per stare meglio con noi stessi. Ancora Schopenhauer diceva questa roba qua, la volontà, come la intendiamo noi, quell'atto volontario di andare in una direzione è semplicemente il contentino che la natura ci dà per non disprezzare del tutto noi stessi. Ed è interessante vedere che Mill sarebbe molto d'accordo con Schopenhauer in questo, perché eliminare questo atto di volontà significa che, significa umiliare il nostro orgoglio e paralizzare il nostro desiderio di perfezione. Quella che sta dicendo Mill? Beh, sta dicendo, caro Arturo Schopenhauer, non posso partire dal tuo presupposto, non posso perché divento più simile a un oggetto che non ha un essere umano e quindi perdo qualsiasi possibilità. Ecco, il testo di Mill ci dice, vuoi agire da essere umano? Cioè vuoi che il tuo agire abbia un senso, un significato? Beh, allora la volontà e di conseguenza la libertà sono due presupposti fondamentali. Ed è importante capire che sono presupposti. E questo io lo voglio dire in maniera molto forte. Molto spesso, e questo capita anche nel pensiero liberale, cose come volontà o come libertà si cercano di fondare socialmente, sociologicamente, soprattutto nel pensiero libero all'americano, questa cosa avviene. Si cerca una giustificazione della libertà, della volontà. Ecco, io mi sento di dire che quella giustificazione, beh, la gente non la troveremo mai. Perché? Perché il concetto di volontà è un concetto che va per eliminazione. Perché quando io voglio capire quello che sto facendo della mia vita, prima di arrivare a dire, eh, io ho voluto essere quello che sono, devo scremare, e questo è importante, una montagna di concause che mi portano ad essere quello che sono. Non arriveremo mai però, e questo credo sia il messaggio fondamentale di On Liberty, di Mill dal punto di vista filosofico dei presupposti, non arriveremo mai ad avere una conoscenza delle concause che mi portano ad essere quello che sono. Talmente precisa, talmente vasta, talmente chiara, da eliminare del tutto il presupposto della volontà e di conseguenza quello della libertà. Alla fine dei conti arriveremo sempre a dire, ok, qui la mia ricerca delle cause che mi portano a dire io sono quello che sono per questo motivo, si ferma. Ecco che lì io devo mettere la mia volontà. Io ho voluto e io in quell'atto mi manifesto in quanto individuo e in quanto individuo sono irriducibile a quello che gli altri sono, del motivo per cui siamo tutti praticamente identici geneticamente, ma siamo tutti diversissimi nei modi di porci, nei modi di parlare, nei modi di desiderare. Siamo, come tu giustamente prima hai citato Ayn Rand, siamo minoranze, nel senso che siamo una cosa irriducibile, irriducibile a tutti gli altri, soprattutto ai gruppi. E questo credo sia importante oggigiorno da ripetere ed è il punto veramente fondamentale attuale del testo di Mill. Dobbiamo ritrovare il coraggio di considerarci creature volontarie. Senza questo coraggio non potremo mai parlare di libertà, perché la libertà non si dà laddove non c'è una volontà, una volontà di affermare me stesso in quanto individuo e la volontà di far sì che altre concause politiche, i governi, i gruppi, le opinioni, i trend che adesso vanno tanto entrino nella formazione di quello che io sono. Io sono un fortissimo sostenitore di questa idea che ciò che mi forma in quanto individuo è ciò che sfugge da quello che si dice, da quello che si cerca, da quello che i gruppi di volta in volta, più o meno saggi, più o meno violenti, più o meno desiderabili, decidono essere ciò che è dicibile, ciò che è sopportabile. È per questo che il saggio di Mill è un saggio molto più di tanti altri sulla libertà. Ed è per questo che io prima ho fatto il collegamento con il buon Lysander Spooner. Poro Cristo è studiato da nessuno in Italia, purtroppo ho citato ancora meno. Credo di essere l'unico in Italia che ha fatto un video, vari video, citando Lysander Spooner su YouTube. Non so se poi l'Istituto Liberale l'ha fatto. Comunque ecco, fatelo ragazzi, perché insomma merita il povero Lysandro, non viene citato mai da nessuno. E lui ha scritto un libro che è I vizi non sono crimini. In cui lui parte dallo stesso presupposto di Mill e quindi dice io voglio. E cos'è che voglio? Voglio persino il mio male. A me ricorda tantissimo Dostoevsky, uno che è molto distante dal pensiero liberale sotto alcuni punti di vista. Ma c'è un testo di Dostoevsky che io amo moltissimo. Io amo tutto quello che ha scritto Dostoevsky, però ce n'è uno proprio che è eclatante e che è interessante perché parte dallo stesso presupposto da cui parte Mill per poi andare in direzioni diverse, per una visione pessimista poi antropologica rispetto a Mill che invece è un grande ottimista dell'animo dell'uomo. Ed è Memoria del Sottosuolo. In Memoria del Sottosuolo il protagonista odioso di Dostoevsky, ed è proprio il fatto che sia odioso che mi piace, cioè a me piacciono i protagonisti che ti fanno incazzare, questo protagonista odioso a un certo punto dice voi potete dirmi fino all'ultimo millesimo di millimetro che cos'è l'uomo biologicamente, cosa lo muove, quali sono le sue fattezze, potete descrivermelo però poi io, e questo lo dice Dostoevsky, voglio essere libero anche di volere il male per me stesso. Ora questo è molto distante da quello che dice Mill perché poi Mill è proprio il classico buonista, ok? Cioè è il buonista non nel modo in cui lo intendono oggi i Salvini, i vari, no è buonista nel senso filosofico perché è un ottimista, è un paccioccone Mill non vuole il bene della gente, Mill è uno con cui sarebbe bello farsi una birra al pub e sta lì a chiacchierare di Masterchef in tranquillità e in realtà Dostoevsky però dice io in virtù del fatto che io voglio il mio male sono libero. Ecco per me il presupposto spettacolare di ciò che Mill costruisce in On Liberty, per quanto poi lui vada in una direzione molto diversa, appunto una direzione di pace sociale, però quel presupposto è guardate che io sono, ho la volontà di desiderare ciò che contraddice completamente quello che per voi è il bene, che è la stessa cosa che dice Spooner nel libro citato, io posso volere i miei vizi perché bevo, perché fumo, perché mi autodistruggo, perché lo voglio e poi lo sappiamo che non è sempre così, lo sappiamo che spesso l'uomo si fa del male perché è disperato, perché è guidato, perché non ha visto alternative, ma anche lì noi non possiamo presupporre che l'uomo sia un sasso che rotola giù da una scarpata. L'uomo è libero perché non sappiamo tutto di lui, perché quello che facciamo noi è ricostruire vagamente la nostra vita, ma poi è proprio in virtù di quello che non sappiamo di noi stessi, che dobbiamo considerarci esseri volontari e di conseguenza liberi. Per quanto Mill appunto poi arrivi a conseguenze diverse, a me piace pensare a Mill come un pensatore dalla radice estremamente, come dire, romantica, questo romanticismo che si vede in Spooner, si vede in Dostoevsky, questa per quanto pessimistico, e che poi in qualche modo capisce che le conseguenze del suo pensiero per lui non vanno bene, lui non vuole che la gente vada verso i vizi, lui vuole pensare che la gente vada sempre verso il meglio, un po' come Socrate, la gente si fa il male solo quando non conosce il bene. Mill dice no, scusatemi Spooner e Dostoevsky dicono no, non è così. Mill ha un po' questo atteggiamento e si convince nel tempo che no, in realtà la gente fa il male solo perché non ha conosciuto il bene, quindi c'è tutta l'idea dell'educazione. Però quella radice lì io credo che vada ripresa assolutamente. Peraltro è interessante il fatto che On Liberty, se noi andiamo a guardare anche il modo con cui Mill viene citato nelle università, è il testo più conosciuto ma meno citato nelle università. Di solito si prende sempre tutt'altro di Mill. On Liberty è il testo come la critica del giudizio di Kant, è il testo che ha scritto quando ha dato fuori di testa, ok? È una cosa interessante questa, è una cosa interessante perché in realtà in quel testo lì si vedono i presupposti del pensiero di Mill e la cosa interessante è che non sarà Mill poi a svilupparli del tutto, dovremmo aspettare molto tempo prima che quei presupposti trovino la loro dimensione e concludo dicendo che se uno vuol leggere un testo che prende veramente i presupposti di On Liberty di Mill e li porta a compimento, beh sono due gli autori secondo me. Uno parziale, però secondo me è fondamentale che è stato un'archeutopia di Steve Nozick. Nozick parte dagli stessi presupposti di Mill e le grandi critiche che lui muove a Rawls e a tutto quanto è quella roba lì. Ragazzi, noi siamo esseri volontari, da questo traiamo le conseguenze. Il secondo autore invece è un professore di filosofia che se non sbaglio, se non è ancora vivo, è morto da poco tempo, devo controllare, che è John Lacks, un testo che io consiglio caldamente tantissime volte nei miei canali che è lasciare in pace gli altri. Testo, peraltro, edito qui in Italia dei BL, testo che io ringrazierò sempre l'Istituto Bruno Leoni di avermi fatto conoscere perché è un testo veramente importante e lì la conseguenza di quell'atto, la dico grossa, di quell'atto di fede nei confronti della volontà umana è una conseguenza incredibile. L'unico modo per essere felici è chiedersi qual è il proprio bene e non chiedersi qual è il bene degli altri. Quindi lasciare in pace gli altri, presupposto fondamentale, su cui poi si costruiscono le zone di grigio, i compromessi che nella politica e nella società sono inevitabili, ma che non può essere discutibile. Ecco, in un mondo in cui nessuno sa lasciare in pace gli altri, On Liberty è un buon presupposto per capire cosa questo comporta. E niente, io lo consiglio come lettura proprio per questo, ce n'è veramente bisogno. Grazie, sono assolutamente d'accordo. A me sono venuti in mente un altro libro che poi ci arrivo, ma insomma diciamo che la parte fondamentale su cui riflettere è che tendenzialmente la legislazione e quindi le leggi dovrebbero in un'ottica liberale, come dire, essere introdotte per vietare comportamenti che danneggiano altri e non tanto per imporre o proporre, suggerire, auspicare comportamenti che invece possano portare il bene. Prima di tutto perché il bene è soggettivo. Secondo perché, come dire, di solito quando si è tentato questa via si è arrivato a esiti esattamente opposti. A me cosa è venuto in mente, prima di lasciare la parola al suo cotroneo? Mi è venuto in mente la definizione di Martino che voleva introdurre, di Antonio Martino che voleva introdurre in Costituzione un articolo molto semplice che sono vietati, non possono essere vietati, viatti di capitalismo tradutti consensienti, che secondo me è una frase straordinaria e mi fa venire in mente quell'altro grandissimo libro che è Difendere il difendibile di Martin Bloch, che oggettivamente chiunque lo legga, dopo averne detto B, perché sono d'accordo con Rick Dufersen, è un impatto incredibile, semplicemente difende alcune figure come la fitta Tuguri, l'usuraio, lo sfruttatore delle prostitute o quant'altro, ma dal punto di vista non tanto non solo funzionale, ma addirittura paradossalmente morale, nel senso che si tratta di intermediari che agevolano la soddisfazione di bisogni tra le persone che quindi vogliono fare e compiere atti volontari di questo tipo, senza nessun tipo di giudizio morale, perché anche lì la morale al limite spetta alle religioni per quelli che le seguono, non sicuramente al legislatore, il legislatore deve fare altro. E poi si arriva alla situazione paradossale, e questo non cito me, ma cito Antonio Martino nella prefazione dell'edizione che ho io, perché spesso ci dimentichiamo che cosa vuol dire essere in un sistema di welfare state connaturato al paternalismo di Stato tendenziale. La situazione paradossale, se conduco una vita dissipata, comprometto l'assorbibilità finanziaria della sanità pubblica. Tuttavia, se invece vivo rispettando tutti i canni del salutismo più bigotto, salvaguardando il sistema sanitario nazionale, motivo di orgoglio infinito per i suoi sottidettori, ma dal momento che la mia vita si allunga, metto in dettaglio il sistema pensionistico pubblico. Cosa dovrebbe fare allora un vero patriota? Semplice, vivere una vita igienicamente ineccepibile in modo da arrivare in buona salute all'età del pensionamento, e poi tirare le cuoia, possibilmente senza lasciare i redi. Ecco, credo che questo sia esattamente gli estremi a cui si arriva quando si si mette nella logica da una parte del welfare state e dall'altra del paternalismo di Stato. Alessio Controneo, con la sua solita capacità di provocazione, ha pubblicizzato la nostra serata sul suo profilo con una domanda. George Stuart Mill era comunista, questo è quello che hai scritto perché ti ho controllato come condividevi, quindi a te la risposta. Grazie Alessio, prego. Chiaramente la domanda vuole essere una provocazione, la risposta, mi spiace fare spoiler perché adesso dovrò argomentare, la risposta è no, e iniziamo in realtà a fare complimenti a John Stuart Mill perché il libro On Liberty è veramente bello, come ha detto Rick, è qualcosa che io consiglierei per approcciarsi, non è, John Stuart Mill non è però l'autore a cui direi a qualcuno di fare il riferimento per approfondire esattamente cos'è il liberalismo, nel senso, se vuoi iniziare a conoscerlo, questo libro è perfetto perché è soft, ti argomenta senza sopismi, ti dice perché le cose sono giuste, in che modo puoi dimostrare che siano giuste, eccetera, eccetera. Ci saranno altri vari problemi di Mill, nel senso che comunque lui come persona ha appoggiato vari correnti filosofici, o perlomeno ha utilizzato una certa metodologia che poi purtroppo ti può anche allontanare dalla strada liberale. E lì, vabbè, per me è un problema, per altri chiaramente no. Comunque, tornando ai vari complimenti che si possono fare a Mill, il primo, come già c'è un abitù, è per quello che riguarda il paternalismo. Mill si pone la domanda, diciamo, su abbiamo davvero bisogno di un buon pastore? Lui che era assolutamente contrario alle religioni, probabilmente era anche decisamente contrario all'idea di avere un pastore in tutti i sensi. E dice, quando anche fossimo tutti quanti delle pecore, non saremmo comunque tutti uguali, perché anche le pecore sono diverse fra di loro. Noi che le vediamo lì tutte uguali, con la lana, che pelano tutto il giorno, brucano l'erba e sembrano stupide e seguono il pastore. Non sono neanche loro tutti uguali e non andrebbero trattati in questo modo. Cioè, se dovessero avere una società complessa come la nostra. Allo stesso modo, gli esseri umani, che sono essenzialmente diversi, sono più complicati, più complessi delle pecore, hanno un'individualità diversificata e forse ancora da approfondire in una maniera che oggi non immaginiamo nemmeno. Beh, ecco, gli esseri umani devono essere molto più liberi delle pecore, sicuramente. Quindi il paternalismo, come lo stiamo proponendo oggi, necessita di questa riflessione prima. Il paternalismo oggi va tantissimo di moda, soprattutto per paternalismo libertario, diciamo nel senso è bello come compromesso con la realtà. Se tu mi dici lo Stato deve portare le persone ad essere più vicine alla libertà, tolleranti, ad accettare di più la concorrenza, io ti posso dire sì, è un qualcosa che possiamo fare come compromesso. Ricordiamoci sempre però che comunque oggi il pastore è buono, domani il pastore buono non c'è più, potrebbe essere un pastore cattivo. Insomma, vorresti dare il potere che daresti al politico che ti piace al politico che non ti piace? La risposta penso che sia no per tutti quanti. Cioè, chi vota, per fare un nome, chi vota Salvini non vorrebbe mai che Zingaretti avesse lo stesso potere di Salvini, dovessero andare al potere. E viceversa, chi vota Zingaretti non vorrebbe mai vedere Salvini con lo stesso potere di Zingaretti. Ecco che bisognerebbe fare una riflessione sul buon pastore. Questa qui è stata una bellissima parte di Mil. E poi mi riaggancio a quello che ha detto Rick, a riguardo della volontà. Mil mette al primo posto la volontà e non solo, la mette in contrasto con il dovere. E' molto bella, secondo me, la critica al calvinismo che fa Mil, perché tanti pensano, ah sì, ma la mentalità protestante è molto capitalista, i protestanti sono dei grandi lavoratori. Certo, però il fatto che tu fai delle cose perché ti senti obbligato, anche se non fosse moralmente, perché ti senti obbligato, non è la stessa cosa che scegliere di farlo per te. Il fatto che tu senta come dovere di essere una persona produttiva, non è la stessa cosa che scegliere di essere una persona produttiva per te stesso. E questo, secondo me, è un bel assist che fa il liberalismo, possiamo dire anche, sì, il liberalismo classico, che ha una matrice molto basata sul cattolicesimo, o sul cristianesimo, diciamo un po' più originario. Io comunque sono atio agnostico, mettiamola così, non ho alcun interesse a difendere il cristianesimo, il cattolicesimo. Però è una critica che si può fare ad alcune evoluzioni del cristianesimo e che va posta. Molti autori liberali, vabbè anche libertari, per dire Rothbard, ha fatto due scatole tante per dirci che i cattolici erano migliori dei protestanti, eccetera, eccetera. Però, senza andare troppo nel profondo, la frase che Miller porta, tutto ciò che non è dovere è peccato, è terrificante. Perché stai dicendo alle persone, devi fare così perché tutto il resto andrebbe contro la volontà di Dio. È brutto, perché invece, come dire, adesso io non voglio parlare a nome dei cristiani, però, insomma, un buon cristiano ti dovrebbe dire Dio ha deciso di darti la libertà, tu sei libero di scegliere se seguire la sua volontà, oppure no? Sei libero? No, vabbè, dai Rick, nel senso, se dovesse esistere questo... Dipende che i cristiani è, è un gruppo bello vasto. Infatti hai ragione, però, diciamo, nel mio immaginario, il cristiano che vorrei, mettiamola così, è quello che ti dice tu sei libero di scegliere perché Dio ti ha dato questo libero arbitrio, ipotizzando che questo libero arbitrio esista, e devi scegliere, devi fare la tua strada e tramite la tua strada tu realizzerai la volontà di Dio. E questo è già un modo diverso di vedere le cose rispetto a quella di fatti come critica mille calvinista che è un'imposizione. È terribile vedere, vivere anche la religione come un'imposizione, perché, accidenti, alla fine diventa un peso, già la vita ha le sue difficoltà, poi se devi aggiungerne così non è assolutamente buono. E terzo punto che ho gradito tantissimo è stata, vabbè, come fisico, la critica, diciamo, all'infallibilità. Bella la frase, dico come fisico perché, dice, se si ditasse di dubitare della filosofia di Newton, gli uomini non potrebbero sentirsi così certi della sua verità come lo sono. Adesso faccio una piccola nota. La seconda legge di Newton, che è quella F uguale M per A, è sbagliata. Verrà in piccoli contesti, nel senso quello che possiamo utilizzare tutti i giorni, però abbiamo scoperto essere sbagliata. Quindi, anche lì, una cosa che abbiamo creduto vera per tantissimo tempo e che ancora oggi ci torna molto utile, comunque non è vera essenzialmente nel profondo. Ci sono dei modi, diciamo, popperianamente l'abbiamo falsificata, l'abbiamo superata, l'abbiamo fortificata e resa ancora più più bella e potente. Però non dobbiamo impedire alle persone di dubitare e non dobbiamo impedire alle persone di pensare in una certa maniera. Un'altra bella citazione che fa Mill è quella del sonno dogmatico, che, diciamo, Hume risveglia le persone dal sonno dogmatico. Possiamo vederle in questa maniera, che Hume è un grandissimo pensatore. Cosa significa? Significa che se noi ci poniamo dei docmi, che è diverso dall'avere dei principi, se noi ci poniamo dei docmi in cui credere, alla fine facciamo tifoseria, non andiamo più da nessuna parte. Se i fisici avessero creduto che le formule di Newton erano infallibili, a quest'oggi con la fisica non potremmo neanche andare sulla Luna, non avremmo forse i cellulari, quindi è giusto dubitare. E questo lo vediamo nella scienza dove è più ovvio, perché abbiamo dei risultati tangibili, ma è vero anche nella società, perché tutto quanto va criticato. Mi viene in mente per dire il liberalismo. Il liberalismo, prima del Novecento, era incompleto e quando hanno dato, quando è stato, diciamo, abolito il suffragio limitato, è stato un suffragio, vabbè, prima maschile, poi universale, il liberalismo ha perso potere, perché fino a quel punto nessun liberale si era preoccupato di rendere il liberalismo, diciamo, bello per le masse, non era stato semplificato, non era stato spiegato, non era stato neanche dimostrato che fosse utile, che fosse necessario e che fosse qualcosa che ogni individuo dovesse sentire come proprio. Quindi io penso che il fatto che il liberalismo sia stato messo in discussione sia stato qualcosa di estremamente positivo. E lo stesso dovremmo pensarlo per tutte le idee, tutte le idee che abbiamo. La libertà di espressione, di fatti, è qualcosa che dovremmo tutelare sempre. E quando Mill parla della tirannia della verità, proprio anche parlando della legge di Newton, anche se noi sappiamo che una cosa è vera, è giusto, anzitutto, vabbè, come dicevo, per la legge di Newton, è giusto andare a contrastarla, perché un giorno potremmo scoprire che non era davvero vera. E oltretutto non è giusto dal punto di vista, come dire, dell'essere umano, perché tu sei fallibile come essere umano, io sono fallibile come essere umano e non si può dire che qualcosa sia oggettivo in questi casi. Un'opinione è un'opinione. possiamo dire tutti quanti questa opinione, noi crediamo che sia quell'oggettiva, crediamo che sia quella giusta, quella definitiva, ma non possiamo mai scrivere, diciamo, sulla pietra, diciamo, sulla pietra dell'universo che quella cosa è vera e basta. Dobbiamo lasciare che sia messa in discussione. Ultimo appunto, fra le cose belle di Mill, poi inizio a parlare delle cose che sono brutte, fra le cose belle è che ha detto questa cosa, coloro che ammettono limiti al potere statale sono delle brillanti, isolate eccezioni tra i pensatori politici dell'Europa continentale. Quindi lo stesso Mill criticava moltissimo quelli che noi definivamo, definiamo i liberali continentali. Ed è in realtà strano, perché ecco qui inizia, diciamo, la mia critica. È strano perché io in realtà vedrei Mill nei suoi ultimi anni molto vicino a queste posizioni, perché ecco, Mill era utilitarista. Quindi cosa significa? Significa che per Mill le cose sono giuste. Adesso Rick forse mi correggerà, però le cose sono giuste perché sono utili. È sbagliato vedere la libertà in questo modo, perché come diceva Hayek, la libertà va data alle persone a prescindere dall'utilità o dai risultati. Infatti era conseguenzialista, diceva certe cose sono da fare perché i risultati sono positivi. In realtà non è vero. Adesso non so se tutti quanti siamo d'accordo, però io dico le droghe dovrebbero essere tutte quante liberalizzate, non solo legalizzate, liberalizzate, a prescindere dagli effetti. È sbagliato mentire, è sbagliato minimizzare o nascondere alle persone il fatto che le droghe possano fare male. Perché, a parte che mentire è sempre sbagliato, è una cosa che non va fatta. Però non si può giustificare un qualcosa in base alle conseguenze, o perlomeno in base solo alle conseguenze. Gli argomenti di Mill sono a fortiori, non sono argomenti che puoi porre come basati su principio. Il principio deve essere la libertà. Le persone devono essere libere, anche se questo poi diventa non utile, se questo può causare, come dire, un danno. Se tutte le persone iniziano a diventare alcoliste, è vero, è un danno per tutti, è un danno per la società, però non puoi farci niente. Noi contiamo sul fatto che le persone comunque riescano ad essere razionali, a risvegliarsi. Il problema dell'utilitarismo e del conseguenzialismo è che ti portano a poter cambiare idea. È bello poter avere dei principi nella vita e avere dei principi ben saldi. Le idee di Mill, come dicevo, vanno bene a fortiori, quindi vanno bene per dire quanto il liberalismo faccia bene e si aggiungono a un qualcosa che è già giusto di per sé. Altrimenti lo stesso metodo lo puoi utilizzare per giustificare tutto quanto, perché tu puoi andare a vedere le cose positive di ogni teoria politica filosofica e riesci a giustificare ogni cosa. Difatti Mill nella fase finale della sua vita comunque ha iniziato a accettare gradualmente non il socialismo ma alcune politiche socialiste. Per dire, lui credeva che andassero indotti i lavoratori a creare queste fabbriche in cui tutti quanti si era, diciamo, uguali e si gestiva la fabbrica in maniera più o meno autonoma. Aveva iniziato ad avere tutta questa serie di idee o sulle tasse, sulle imposte sull'eredità. Insomma, è andato fuori strada rispetto a come era partito. Non so a cosa imputarlo, però il problema dell'utilitarismo e del conseguenzialismo senza principi è questo, che rischi di andare fuori strada. Se riesci ad abbinarlo con dei buoni principi non ci andrei mai. Qui, diciamo, è la mia fine. Grazie, Alessio Controleo. È curioso che gli uomini riconoscano il valore degli argomenti a favore della libera discussione, ma ricusino di portarli alle estreme conseguenze, senza vedere che se queste ragioni non sono valute per un caso estremo, non valgono per alcun altro caso. Ed è curioso altresì che se credano di non ritenersi infallibili quando ammettono che vi deve essere libertà di discussione su tutte le questioni che possono essere dubbie, salvo poi pensare che alcuni principi o dottrine particolari non debbano essere messi in discussione perché sono così certi, ovvero perché essi sono certi che siano così. Definire certa qualsiasi proposizione, mentre se qualcuno che, se non gli fosse vietato, non contesterebbe la verità, significa presumere che solo noi e coloro che con noi concordano siamo i giudici della certezza, senza udire la versione dell'altra parte. Questo è un altro aspetto fondamentale della teoria di Mill, che probabilmente è l'unico caso, ricordava ascoltando Alessio Cotoneo, che questa divisione che esiste solo in Italia tra i liberali e i liberisti, perché tutto il resto del mondo la parola non esiste, forse in questo caso potrebbe, è forse l'unico caso in cui ha una logica, nel senso che è sicuramente liberale Mill, liberista in economia direi proprio di no. Pericolosa inoculatrice di serie a bambini per renderli omosessuali, a lei la parola. Grazie. Allora, intanto sono stati interessanti. Chi si è collegato adesso è chiaramente una battuta, è stata accusata, ha preso una querella, chi l'ha accusato di quello ha vinto, come dire, non tutti lo sanno, scusa Elisa. In effetti poteva sembrare un po' una professione, diciamo, innovativa, ecco, quantomeno. E non siamo nel campo dei maggiorenni, quindi, insomma, forse questo non potrebbe essere considerato un atto di libertà, se non su, diciamo, prescrizione medica per necessità. No, scherzi a parte. Allora, intanto io ho questa edizione della libertà ed è anche per me uno dei primissimi libri che ho letto all'età di veramente 15 anni, insieme a John Locke, insieme a Voltaire, diciamo, gli autori più famosi del pensiero liberale con le sue sfumature e consiglio ovviamente a chi ci segue, anch'io, questa lettura, ma anche la lettura, non so, del Trattato sulla tolleranza, Lettera sulla tolleranza. Ci sono tanti libri che possiamo considerare entry level, soprattutto per chi piano piano vuole farsi una coscienza politica o farsi delle domande e poi andare su i Nozick, insomma, tutti gli autori che sono stati citati successivamente, compreso il grande Lax, lasciare in pace gli altri, regalo, per altro, che molti giovani fanno ai genitori, forse per il titolo, perché, insomma, lasciare in pace gli altri è, diciamo, un titolo che ha funzionato. In quel momento collaboravo con l'Istituto Bruoleoni e è stato un grande successo sui giovani gen Z. A me piacerebbe, diciamo, partire da qualcosa di mio, ma poi andare magari sul mondo contemporaneo, perché gli spunti che sono arrivati storici, secondo me, sono stati anche abbastanza esaustivi, ecco, mentre io sicuramente un contributo che posso dare più sul mondo di oggi, cercando anche di capire che cosa ci ha lasciato poi questo libro, perché effettivamente, come ha detto Alessio, ci sono degli elementi magari che possono sollevare un po' di critiche, c'è anche un piccolo pensiero neoluddista, in cui sostanzialmente Mill dice, ma insomma, se ci fossero un domani delle macchine che sanno fare un sacco di cose, sarebbe un peccato però rinunciare agli uomini a far fare a loro queste attività. Ecco, questo è un pensiero che per una come me, che ha lavorato in Uber, oggi lavora in Glovo, insomma, è sempre stata per la tecnologia, ovviamente, un po' un colpo al cuore, però bisogna anche contestualizzare il pensiero e capire che, come ha detto Rick Dufer, Mill sicuramente era una persona deliziosa comunque andrà a prendere il tè e una persona, diciamo, di bontà, probabilmente con questa grande empatia verso un'umanità in cui lui evidentemente, quantomeno quando ha scritto questo libro, credeva e però anche... Non rego solo perché ha detto di andarci a bere una birra, ma una... Bravo, 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 non avrei mai detto una cosa del genere, una birra, una birra per piacere, perché poi... Ho una reputazione da difendere. Io avevo il ca' detainato, quindi sono tipo i mormoni, non è che quello, ok, no, però insomma, questo insomma, ci sono degli elementi che sono appunto simpatici, però lo leggo perché fa ridere, supponiamo che esistano delle macchine automi dalle forme umane, perché queste ci piacciono, capaci di edificare case, coltivare grano, battersi in guerra, celebrare processi e addirittura erigere chiese, recitare preghiere, questo io non l'avevo mai sentito, cioè il robot prete è una novità anche per me. Sarebbe una grave perdita barattare per simili automi gli uomini veri e le donne vere. Anche quelli che di certo, pur abitando oggi le parti più scivili del pianeta, sono senza alcun dubbio soltanto smunti esemplari di ciò che la natura può produrre e produrrà. Quindi c'è anche comunque un bellissimo messaggio di ottimismo sul futuro. Ecco, queste... Io comunque le trovo straordinarie lo stesso, queste opinioni, anche se magari appunto non le condivido al cento per cento. C'è un altro punto che invece trovo di attualità. Tutti gli altri... scusate, allora, capitolo tra l'individualità come uno degli elementi del benessere umano. Sostanzialmente, in questo caso, ma in tanti capitoli, lui sostiene la necessità della libertà di opinione. L'opinione libera, non possiamo rinunciare ad avere le opinioni anche a beneficio di chi è contrario a quell'opinione e può quindi esercitare il suo diritto di contrastare quell'opinione e quindi il dibattito politico o pubblico perderebbe un grande pezzo se fossero censurati questi contenuti. Questo secondo me è molto interessante. Poi, sempre Emil ci dice, davanti al nostro teo, alla nostra birra, tutti gli atti di qualsiasi genere siano che arrechino un danno agli altri senza una casa giustificata, si possono, a giusto titolo, controllare e nei casi più importanti li si deve assolutamente controllare. Con i nostri sentimenti di riprovazione e se occorre con il nostro intervento attivo. L'individuo non deve arrecare molestia agli altri, insomma questa qua è la base. Però lui, il nostro Mill, a un certo punto parla anche di opinioni che scatenano azioni diciamo di disturbo e di violenza. Qua dice, l'opinione che i commercianti di grano sono degli affamatori dei poveri o che la proprietà privata è un furto, dovrebbe poter circolare indisturbata finché viene solo diffusa sulla stampa, ma può diventare legittimo punirla se la si esprime a voce in mezzo a una folla eccitata, assembrata davanti alla porta di un commerciante di grano o se la si sbandiera con dei volantini fatti circolare fra quella stessa folla. Come dire, c'era già della gente inferocita che voleva picchiare il commerciante, se si va lì e si dice che i commercianti sono dei ladri affamatori dei poveri, ecco allora lì l'opinione, secondo Mill, diventa un'istigazione a delinquere sostanzialmente, un'istigazione all'odio. Ecco, quale argomento più attuale di questo che sta dividendo tantissime persone rispetto a proposte di legge, dibattiti politici, però vedete quanto anche centinaia di anni fa ancora c'era comunque questo dibattito. Io lo trovo veramente straordinariamente interessante, perché io non me lo ricordavo sinceramente perché ripeto l'ho letto a 16 anni questo libro e sinceramente non l'ho mai più letto, ne ho letti tanti altri, però questa parte qua è molto interessante perché anche qui potrebbe creare dibattito, perché qualcuno dirà no, invece io posso andare in una folla e dire i commercianti sono tutti degli affamatori di poveri e devo essere libero di poterlo fare. Lui dice no, però stai stigando alla violenza e quindi forse è meglio che ti controlliamo. Ecco, questo è un dibattito a cui io stessa non so dare un inizio e una fine, però sicuramente è un dibattito che deve e può andare ancora avanti. Oggi abbiamo delle proposte di legge come quella del contrasto o diciamo della possibilità di rendere più grave un reato di odio se associato a razzismo, omofobia, abilismo, insomma una serie di discriminazioni che per qualcuno rientrano nella categoria delle opinioni. Ecco questo quindi, il nostro MIL potrebbe partecipare a un dibattito a piazza pulita e portare le sue ragioni a favore presumibilmente del decreto e ci sarebbero sicuramente molte altre persone contrarie. Questo per dire cosa? Che ci sono dei temi che si ripropongono nella storia, nella società, che sono temi antichi e che però antichi non sono, perché se continuiamo a discuterne forse è anche positivo, significa che la nostra società non si è fermata, è voluta insomma con i suoi tempi, nei suoi modi, però vuol dire che questo dibattito c'è, anche già questo secondo me è un dato positivo. Un punto invece su quello che dicevi tu Lorenzo, sul concetto di libertà applicata e anche qua mi ricollego anche ad Alessio, sulla libertà applicata alle scelte delle persone, al rapporto che c'è con lo Stato. Allora quando si dice, come nel caso di Martino, vorremmo avere nella Costituzione una frase che dice qualunque atto di capitalismo tra adulti consenzienti dovrebbe essere legale, si apre ad una discussione enorme che riguarda per esempio il tema dei diritti civili che ci riporta un po' nel terreno, perché oggi si parla di droghe come ha parlato Alessio, si parla di donazione o affitto o vendita di uteri, si parla di donazione di sangue o di vendita del sangue, ci sono una serie di temi che riguardano le persone e la scelta e la libertà delle persone di vendere un prodotto, un servizio che magari fa parte del proprio corpo, che ad oggi non è normata in un modo o nell'altro, o che è normata in modo paternalista e proibizionista e che crea poi tutta una serie di conseguenze poco efficienti e ne cito soltanto alcune. Il contrasto alle droghe leggere o pesanti che siano, io sono d'accordo con Alessio sulla legalizzazione di tutte le droghe con una gestione diciamo del rischio e con un controllo sulle persone che hanno dipendenze in un'ottica di ridurre queste dipendenze e di gestire la patologia qualora ci fosse. Però ecco, invece il contrario, cioè l'aver proibito la vendita e la regolamentazione delle droghe, leggere poi mi fa proprio ancora più ridere perché veramente non c'è una pubblicazione scientifica che dimostri che la cannabis produce più danni degli alcolici, non esiste. Non esiste né per dipendenza né per morti, chiaramente ci sono danni importanti, ci sono conseguenze sulla salute, ma non esiste una pubblicazione scientifica ad oggi che dimostri diciamo quanto questa sostanza possa essere peggiore di altre, come per esempio gli alcolici. Non esiste nemmeno una pubblicazione che possa dimostrare che altre sostanze come per esempio i psichedelici producono dipendenza, anche in quel caso ci sono delle conseguenze sulla salute ma ci sono anche scopi medicali e per esempio di psichedelici non si parla mai in Italia, mentre in stati come l'Oregon o negli stati del nord Europa se ne parla di psichedelici. Perché si parla di psichedelici? Perché gli psichedelici sono prodotti che vengono utilizzati per alcune terapie e che vengono anche utilizzati a scopo ricreativo, a scopo diciamo di introspezione. Ci sono mille ragioni per cui una persona per sua scelta adulta decida di utilizzare un prodotto psichedelico. Spesso non è né più né meno di un prodotto diciamo simile a uno psicofarmaco, con a volte anche meno conseguenze negative. Ecco, nonostante tutto questo per esempio lo psichedelico viene trattato come fosse la cocaina, che è un prodotto che crea una fortissima dipendenza e che crea anche danni maggiori. Non c'è scienza, non c'è divulgazione dell'informazione e non c'è considerazione del rischio. Quindi il minore o il maggiorenne, io spero maggiorenne, non sa neanche qual è la differenza tra una droga e l'altra e proprio perché il prodotto è illegale rischia di commettere delle scelte dannose per se stesso e per gli altri. Quindi anche su questo io spero che veramente un domani faremo atterrare le nostre teorie liberali, liberiste eccetera in proposte di legge che permettano la legalizzazione delle droghe in primis. La prostituzione, secondo, ancora meglio, è ancora più importante perché non abbiamo neanche gli effetti negativi che potrebbero esserci nelle droghe, laddove ovviamente c'è libertà della scelta, ma quando qualcuno dice ma la prostituzione ci sono un sacco di abusi, anche nelle gelaterie ci saranno degli abusi, anche nei ristoranti ci sono gli abusi, cioè in qualunque contesto commerciale, economico, possono esserci degli abusi, ma che discorso è? Cioè non è che se c'è una donna che si prostituisce c'è più rischio di abuso, ma perché? Chi l'ha detto? In una fabbrica, in un ristorante, in una discoteca, in un ospedale, in una chiesa, ovunque ci può essere un abuso. Ho sempre sospettato del gelataio sotto casa, io lo dico e quindi lo sposo. Però siamo garantisti. L'ho sempre visto, io quei gelati li ho sempre visti con sospetto. Vedi? Però noi siamo garantisti e garantiamo per adesso che fino a prova contraria il gelataio è innocente. Tuttavia ci potrebbe essere un abuso. Quindi di nuovo, adesso lo chiamano sex work, poi ci sono i giornali political correct che non vogliono dire prostituzione ma dovremmo legalizzare il sex work. Ma sì, ma che domanda è? Ma veramente stiamo ancora chiedendoci questa cosa? Secondo, terzo e ultimissimi, la procreazione medicalmente assistita. Il 3% dei bambini oggi nasce con la procreazione medicalmente assistita. Circa il 10% delle persone, vi do questa notizia, non sono figlie del padre. Non sempre è procreazione medicalmente assistita, spesso sono altri veicoli meno convenzionali, meno scientifici di procreazione. Cosa significa? Significa che... Ma è del tutto naturale peraltro. È tutto naturale finché è creato dall'uomo. Una coppia su tre non riesce ad avere bambini. Cosa succede? Che tutte queste persone si rivolgono allo Stato, lo Stato però che è paternalista e comunista non permette l'acquisto di seme o di ovociti perché siamo fondamentalmente dei comunisti e quindi dato che noi non vogliamo che ci sia capitalizzazione di questo servizio, noi diciamo alle persone ciao Elisa, dona il tuo ovocita, non ti diamo neanche un euro. Peccato che sia un'operazione con un'anestesia, con diciamo tutto un impatto e qualunque persona sana di mente dice vabbè sì lo posso anche donare ma molte più persone donerebbero se ci fosse un rimborso. In Italia non si può dare il rimborso. Quindi che cosa succede? Non ci sono gli ovociti. Allora in Italia gli ospedali comprano dall'estero e non comprano soltanto quello comprano tanti prodotti biomedicani, comprano il seme e comprano gli ovociti perché in Italia non si può noi in Italia non possiamo venderli o comprarli perché c'è un approccio paoperista comunista anche ai diritti civili persino quello. Terzo tema l'utero in affitto che è un tema scomodissimo che non ci piace ma anche in quel caso l'assenza di normativa che cosa sta producendo? Produce tantissima emigrazione verso paesi che consentono questa pratica per coppie, per single, per persone che non hanno l'utero, per qualunque ragione, con persone che decidono volontariamente perché hanno deciso di vendere il proprio corpo, di offrirlo per un servizio pagate. Allora in mancanza di questo che cosa succede? Che in Italia si stanno creando dei mercati neri incredibili con delle situazioni insostenibili in cui ci sono donne per esempio che magari rimangono incinte in alcuni paesi dell'est Europa, vengono in Italia invece che abortire e attraverso dei gruppi Facebook, e questa è una cosa che succede, purtroppo abbiamo viste con la coscioni queste cose, si mettono d'accordo con coppie per diciamo concedere questo bambino alla coppia italiana. Cosa succede? Il signore italiano finge di essere il padre della ragazza rumena, moldava eccetera, spesso è dell'est, riconosce il figlio e poi viene adottato dalla moglie o dalla compagna di lui. Questa roba qua accade in Italia con soldi che passano, quindi di nuovo se tanto l'uomo vuole drogarsi, prostituirsi, offrire l'utero, acquistare l'utero, qualunque cosa e questo non crea un danno e questo può essere controllato o quantomeno il danno può essere gestito. Ma perché devi, non devi lasciare in pace gli altri? Cioè perché non devi inserire quantomeno un processo di scelta anche con un voto, nel senso lo mettiamo in un voto e poi decidiamo l'eutanasia, mamma mia, anche lì c'è tutto un mondo. Quindi poi l'assenza di libertà si possono avere in questi casi opinioni di coscienza, no? Quindi una persona, io capisco perfettamente che possa essere contraria alla legalizzazione delle droghe, mi deve magari spiegare una ragione logica, magari anche contraria agli alcolici, non lo so, alla carne rossa, ci sono tante cose che fanno male. Però almeno che si metta al voto, almeno che ci sia un dibattito politico, invece noi purtroppo in Italia non abbiamo, non noi, ma la classe politica non ha il coraggio di portare il dibattito su questi temi che sono temi di libertà, che sono temi di libertà politica più che di libertà economica, perché si tratta di tematiche che non sono utili al dibattito politico, quantomeno in quelle che sono le correnti, la gestione del potere. E questo è un grande peccato perché pensate quanti convegni che potremmo fare di intellettuali, di discussione anche con persone contrarie a quello che io ho detto, che chiaramente sono le mie posizioni personali. Chissà quante persone invece potrebbero, non dico convincermi, perché a me sono tipo 13 anni che ho queste idee, però potrebbero convincermi di qualcos'altro. Io ho cambiato idea negli anni sull'immigrazione, avevo un approccio differente, ho letto un libro di un economista libertario pro immigrazione che si chiama, mi pare, no border, border qualcosa, open borders, ce l'ho lì, e su questo per esempio ho cambiato idea. Quindi anche lì siamo nel campo delle opinioni, siamo nel campo della libertà, la discussione politica può creare le condizioni per avere delle scelte che rendono la vita migliore alle persone o semplicemente rendono le persone libere, di scegliere quello che vogliono sul proprio corpo, sulla propria proprietà privata e insomma decidere della propria libertà. Quindi un giorno spero che atterreranno anche tutte queste tematiche sulla nostra tavola politica e niente, continuo a incoraggiare la libertà e però già che ci sono, perché veramente è un libro particolare sul tema, mi permetto questa cosa, open borders, interessantissimo perché mi ha fatto cambiare idea sul tema dell'immigrazione vista come un fenomeno economico e per noi capitalisti cattivi, che pensiamo soltanto al guadagno, pare che ci porti dei soldi, ecco questa cosa qua, quindi bene. Grazie Elisa, diciamo che spesso se voi pensate solo al percorso che c'è stato per arrivare all'approvazione della legge sul testamento biologico capite quanto sia particolarmente difficile perché chi è contrario al testamento biologico utilizzava delle motivazioni assolutamente logiche dal suo punto di vista ma che il problema è che voleva imporre a tutti gli altri, cioè se tu hai una legittima convinzione che in determinate situazioni tu si continua a considerare una vita quella che, come dire, che sta vivendo una persona e nessuno ti obbliga a fare il testamento biologico, il problema è che la mentalità quella totalitaria, perché quello è, vuole imporre il tuo punto di vista agli altri, ma vale per tante cose, tu hai citato la vendita degli organi o del sangue, io sono donatore Avis ma non mi scandalizzerei se ci fosse semplicemente un mercato del sangue, il problema è, ma per un motivo molto semplice perché lo chiaramente vita, libertà e proprietà, voglio dire, c'è negli Stati Uniti col plasma per esempio e effettivamente, chiaramente tanti anni fa ci sono state anche delle grosse problematiche, ma non perché veniva acquistato, perché c'era, diciamo, poco controllo, però negli Stati Uniti tanti ragazzi, ho studiato un anno, sei mesi, sei mesi negli Stati Uniti, c'erano questi bei cartelli che ho scritto, ciao vuoi pagarti i libri, vendi il plasma, vabbè, vendi il plasma, cioè se serve il plasma, tanto alla fine cosa fanno in Italia? Lo comprano dalle Ollus, ma lo comprano, quindi è comunque un business, perché non è che la gente lavora gratis, cioè tu lo doni, ma la persona che te lo raccoglie qualcuno l'avrà pagata, quindi comunque alla fine il commercio c'è. Il plasma è mio, me lo gestisco io, per citare lo stocca, è declinato in altri aspetti, ma a me ha sempre colpito, e poi arrivo alla domanda, sempre che ci sia anche poi qualcuno che invece, se non ci sia qualcuno che voglia fare la domanda per chi ci sta seguendo, mi ha colpito sempre il tema che secondo me è il peggiore che è quello della ludopatia, io adesso sono anche, attualmente sono vice sindaco, ho fatto il consiglio comunale di opposizione per anni e quando c'è stato il regolamento che, come dire, normava le macchinette sostanzialmente, io odio il gioco d'azzardo, credo che davvero sia una sorta di tassa sulla stupidità, ma credo che ci debba essere l'assoluto diritto per chi vuole spendere i propri soldi delle macchinette di poterlo mettere in campo. Voi non avete idea della regolamentazione che c'è sui luoghi da cui bisogna stare distanti un tot di metri, i luoghi sensibili che sostanzialmente sono tutti, comprese le statue, per esempio di oratori, le scuole, gli ospedali, eccetera, ma se uno ragiona dal punto di vista laico, e peraltro con il regolamento passato all'epoca un unico voto contrario, il mio, perché cerca tendenzialmente, se tu tocchi queste cose, sei uno che vuole affamare le persone, no? Perché la ludopatia è un problema. Laicamente dovrebbe essere, lo Stato in qualche modo, dovrebbe avere due compiti. La SST o ASD, per come è diverso, deve curare i malati di ludopatia, cioè quelli che hanno sviluppato una vera e propria dipendenza e quindi si deve preoccupare in qualche modo della cura. E le agenzie educative, in qualche modo delle scuole, dovrebbero spiegarne i rischi. Ma tu non devi regolamentare, farli, come dire, nasconderli, regolamentare gli orari di apertura, eccetera. E questa cosa perché? Ed è paradossale che se voi ci pensate, chi sono quelli più scatenati contro la ludopatia tendenzialmente sono quelli che sono a favore della legalizzazione o della liberalizzazione delle droghe leggeri, cioè tendenzialmente giovani di sinistra. Perché? Probabilmente perché in questo caso c'è di mezzo anche il profitto, la monetizzazione di un atto. E quindi è una delle cose che secondo me sono più emblematiche. Però io volevo arrivare alla domanda delle domande, visto che Elisa ci ha introdotto l'attualità e quindi libertà di opinione credo che sia doveroso che ognuno di voi si esprima. Credo di non violare la vostra libertà di farvi questa domanda. sul DDLZ o comunque dal punto di vista sui reati d'opinione in generale e specifico anche da questo punto di vista. Mi ha colpito nel dibattito, io celebro matrimoni regolarmente nella carica che ricopo e le unioni civili che io ritengo personalmente, ma lo dico durante le celebrazioni, dei matrimoni. Nel senso che per me non c'è nessun tipo di differenza. Il matrimonio di per sé, al netto del valore religioso che si può dare, è un contratto tra due persone, al netto degli estremi per cui bisognerebbe privatizzare il contratto di matrimonio, quindi non deve che esserci il riconoscimento dello Stato, ma insomma sostanzialmente che ci siano tra due uomini, tra due donne, tra un uomo e una donna è uguale. A me è quello che colpisce la prima volta che ho celebrato un matrimonio, sono rimasto perché leggendo i doveri a cui si obbligano reciprocamente, non so se lo sapete, ma io personalmente non lo sapevo, non c'è l'obbligo di fedeltà. Ed è una cosa, questa trovo assolutamente scandalosa come impostazione metodologica di fondo, paroriale, perché è come se invece gay o lesbiche di per sé non potessero essere fisiologicamente monogame. Questa probabilmente chi ha approvato la legge dovrebbe farsi qualche domanda, perché questa sì è discriminatoria, ma proprio in luce. Però volevo sentire dal punto di vista, perché anche nell'ambiente liberale credo che non sia così unanime né pro né contro. E quindi cosa ne pensate in generale? dei delitti d'opinione, dei reati d'opinione si possano essere, devono essere perseguiti e in questo campo specifico che poi scoprì anche politicamente corretto e quant'altro. Quindi facciamo il giro dell'inizio. Rick, a te. Allora, il DDL Zanio, l'ho detto anche qualche giorno fa, anche questa mattina trattandolo, è una legge dalle buone intenzioni che però si pone un compito impossibile. Perché? Perché in realtà quella fattispecie che la legge vuole andare a, su cui vuole legiferare, rimarrà sempre in una zona di grigi interpretabilissima. Quando tu vai a impattare su qualcosa di così delicato come, per esempio, dalla scelta sessuale, quindi, o la scelta di genere, scelte identitarie delle persone, tu avrai sempre la sfumatura inevitabile fra quello che è un atto di violenza e quella che è un'opinione violenta a riguardo. Quindi, per me, questo tipo di leggi hanno una falla alla base ed è la falla del fatto che cercano di porre un confine che vorrebbe essere netto fra quello che è l'atto di violenza e l'opinione che eventualmente può scatenare l'atto di violenza, che però non si può, non si può determinare, non si può delineare in modo così netto. Anzi. E quindi cosa succede? Succede che ogni qualvolta ci sono leggi di questo tipo, e i casi sono tanti e se ne possono citare anche moltissimi nella storia, tu avrai sicuramente quelli che sapranno usare bene la legge e poi avrai quelli che la usano male la legge. Quindi non è tanto il DDL in sé il problema, è il tipo di legge. Cioè, la legge, la domanda che dovremmo farci è, ma la legge può legiferare su quelle cose lì? Secondo me non ci riesce, non ci riesce, è iatrogenica, crea il problema che vorrebbe risolvere. E quindi secondo me è questo il problema. Poi nessuno vuole vedere politici che vanno a dire in giro che metterebbero in forno il figlio gay, ovviamente. Però quando tu cerchi di legiferare su quei temi lì, ma rischi di fare sempre danni. E quindi prima di passare alla risposta di Alessio Cotroneo, non c'è un limite, non dovrebbe esserci un limite dal punto di vista legislativo e quindi conseguentemente sanzionatorio ai, tra virgolette, reati d'opinione. Allora, io da quel punto di vista lì sono molto vicino a Popper. Hai pensato di quel paradosso della tolleranza che negli ultimi anni è stato stuprato su internet perché viene frainteso in modi incredibili? È l'idea che viene utilizzata per dire, hai visto? Hai visto? Chi dice la cosa diversa da me dovrebbe essere messo in catene perché in realtà è violento. Ovviamente l'opinione è sempre violenta per chi non è in accordo. Cioè, ma di cosa stiamo parlando è sempre una violenza l'opinione. E ovviamente io se dico che questa opinione che hai espresso è violenta perché offende i miei sentimenti, o gioco facile a dirti guarda la tua opinione ha causato qualcosa di violento perché il mio sentirmi offeso è qualcosa di molto concreto. Peraltro deriva in cui molto molto spesso si cade, sempre più spesso. Quindi io sto dalla parte di Popper, Popper in quelle pagine straordinarie, dice chiaramente che la società di tolleranti non deve tollerare l'intolleranza laddove l'intolleranza scatena la violenza. E ricordiamoci che Popper scrive quella cosa con in mente una roba ben precisa, le piazze naziste. Cioè, ora, signore e signori, per quanto io al Family Day vorrei veramente andare lì e dirgli, ma ragazzi, una bella carezza e chi dice che, non so, appunto, una coppia omosessuale può crescere soltanto figli gay. Per me questi meriterebbero una carezza molto 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 affettuosa. Ma poi perché tutti i etero fanno tutti questi figli gay? Ma basta! Peraltro, peraltro, peraltro. Il punto è che c'è una differenza, c'è una differenza molto netta fra le piazze naziste, dove la gente veniva estratta dai propri negozi e trascinata via, e un Family Day, dove il Beppe Cruciani di turno sbraita da un paico dicendo, ah, sì, avete ragione, via dicendo. Obiettivamente c'è una differenza molto chiara. Chi non vuole vedere quella differenza, secondo me, è in cattiva fede. Alessio? Inizio dicendo che il vero paradosso di Popper è che tutti l'hanno letto ma nessuno l'ha capito. O proprio, tutti lo citano e nessuno l'ha capito. Che è forse ancora più grave, perché non si sono nemmeno presi la briga di leggerlo. Come Jim Morrison. Io sono tendenzialmente contrario. Poi, nel senso, se passa, sinceramente, non me ne frega niente. Non sono delle cose che cambiano veramente la società. È una legge simbolo, mettiamola così. Però, fosse per me, abolirei questa, abolirei la legge Mancino. Abolirei persino la legge Scelba, per quanto sia comunque pesante. Per il semplice fatto che, come anche ci ricorda Mill, come poi ci ha ricordato Margaret Thatcher, certe idee dobbiamo batterle sul campo del dibattito. Se pensiamo di avere ragione, non dobbiamo imporre la verità a nessuno. La verità è auto-evidente, non ha bisogno di essere imposta, scritta sulla pietra, scritta sui muri, ricordata tramite le leggi, fatta applicare dalla polizia. La verità è la verità. O, perlomeno, l'evidenza è l'evidenza. Non credo che abbiamo bisogno di tornare a queste leggi, che sono leggi di tipo morale. Nel senso, se proprio vogliamo estremizzarlo, qualcosa che più si addice a una specie di stato etico, o a una teocrazia. Chi è che dovrebbe fare una legge, se la pensiamo al contrario, rispetto a questa? La potrebbe fare una teocrazia, se vogliamo guardare al Medio Oriente, o al Medio Oriente ok, ma se no è anche semplicemente a, diciamo, i vari paesi europei fino a cento anni fa. Forse anche meno di cento, probabilmente, se guardiamo quello che è accaduto a Turing. Non vedo il motivo per cui dovremmo tornare indietro di cent'anni, diciamo, nell'evoluzione delle istituzioni. Poi, come ci ricorda Popper, è vero che la storia non va sempre verso il progresso. Purtroppo, il progresso sociale non è che sia un qualcosa che esiste veramente. Esiste la libertà. Le società possono tendere alla libertà, possono non tendere alla libertà. Questo sta a noi. Dobbiamo, la libertà va tutelata giorno dopo giorno, perché possiamo sempre perderla. Oggi potremmo perdere, diciamo, la libertà e potremmo farcela togliere da uno stato che può diventare nuovamente uno stato etico. Non più come prima che opprimeva, purtroppo, le persone con un orientamento sessuale diverso. Può diventare però uno stato che opprime chi ha delle opinioni che io ritengo stupide, ma sono comunque opinioni. Sì, anche perché la parte fondamentale, poi, sono curiosissimo di sapere cosa ne pensa Elisa, perché credo che abbia l'opinione più articolata, per come la conosco. Tendenzialmente, se sono solo opinioni per quanto fastidiose, disgustose, raccapriccianti, deprecabili, eccetera, tali rimangono. Anche gli insulti. Anche gli insulti, sì, sì. Per quanto sia brutto un insulto? Cioè, vuoi regolare davvero gli insulti? Sì, beh, diciamo che gli insulti è un'altra cosa, però, perché poi, insomma, c'è la diffamazione, eccetera, quali sono anche un senso che possano essere perseguibili. Elisa? Allora, intanto premento che io non sono una giurista, però ho cercato di informarmi con persone che avessero la giusta formazione. In realtà, il DDL comunque estende il reato di propaganda e istigazione a delinquere, che comunque sono già, diciamo, circoscritti in ambito normativo, per motivi di discriminazione razza elettrica e religiosa, con un'aggiunta rispetto a motivi di discriminazione basata sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, eccetera. Quindi, in realtà, c'era già comunque l'aggravante di discriminazione. Cioè, vengono aggiunte le tipologie, invece che discriminazione raziale, etnica e religiosa, sono aggiunte degli altri elementi, che io ritengo interessanti e utili. E io, personalmente, sono a favore, perché sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere o disabilità sono condizioni che non scegli. La religione, paradossalmente, la scegli, potenzialmente. Tutto il resto, no. Non scegli di essere nato donna, non scegli di essere nato uomo, non scegli di essere omosessuale, non scegli di essere disabile, non scegli nulla di tutto questo. Non è un'espressione di libertà, è una condizione. Poi ci sono, inoltre, tutta una tematica scientifica di persone intersessuali o con disforia di genere, che quindi magari sono nate uomo e stanno avviando un percorso di transizione a donna o viceversa, che a volte non completano questo percorso, perché è un percorso dolorosissimo, costosissimo, che l'Italia non garantisce, perché lo garantisce sulla carta, ma non lo garantisce nei fatti. Cioè, una persona che oggi ha una problematica di questo tipo, di condizione preesistente alla nascita, di disforia di genere, ci sono tantissime patologie e sono veramente, in realtà, molto più comuni di quanto non si sappia, per esempio nel caso dell'interessualità, cioè queste persone spesso devono rivolgersi all'estero perché non esiste qualità dell'intervento medico in Italia, cioè esiste sulla carta l'intervento, come spesso accade, ma non c'è la qualità. E quindi una persona, per vivere in serenità col proprio corpo e con la propria mente, deve andare in Thailandia, deve andare in Tunisia, deve andare in Serbia a fare queste operazioni. Quindi io, sulla base di questo, io credo che invece sia importante che ci sia questa legge e sono molto contraria a chi ritiene, per esempio, di voler modificare questa proposta sul tema dell'identità di genere, giocando sul fatto che l'identità di genere potrebbe, diciamo, circoscrivere delle persone che non sono ancora al 100%, secondo la legge italiana, uomini o donne, perché non hanno completato questo percorso. E io mi chiedo, ma se una persona che nasce in questa condizione di sofferenza, che nasce in una condizione di vulnerabilità e di svantaggio e non per sua scelta, e deve in più concludere un percorso, come ho detto, doloroso, costoso, difficile, eccetera, che lo Stato neanche gli o le garantisce. Ma perché non posso con una legge tutelarla un pochino di più? Cioè, a un certo punto, se uno sforzo minimo permette a alcune persone, anche che siano poche, di poter vivere con più serenità e con più libertà la loro identità di nascita che non hanno scelto, ma cosa ci costa? Non è una legge che, credo, minerà la libertà di opinione. Non è una legge che toglierà i Family Day, non è una legge che impedirà alla gente di dire l'aborto, uccidi le vite, eccetera, ma speriamo che continuino a farlo ed è giusto che continuino a farlo. Però dovrebbe essere una legge che, diciamo, in contesti di violazione di una legge che già esiste nel Codice Pinale estende l'aggravante su condizioni che sono condizioni preesistenti su una persona e se queste persone vengono discriminate sulla base di una cosa che neanche scelgono, mi dispiace, ma è veramente una cattiveria e una malvagità che credo che debba essere diciamo perseguita e comunque circoscritta. Poi possiamo discutere su a cosa servono le leggi perché se le leggi servissero veramente a qualcosa sempre non avremmo reati di alcun genere invece evidentemente c'è un problema culturale di enforcement della legge di riabilitazione del reo cioè ci sono una serie di tematiche che dovremmo usare un'altra call per parlare soltanto di questo però ecco io credo che in questo caso io mi sento a favore di questa proposta non mi piace che si chiami Didi L. Zan perché lo trovo un esercizio narcisista il fatto che si utilizzino i cognomi delle persone per battaglie che sono di tutti e questo veramente secondo me dice tanto della politica di oggi perché non è che le unioni civili si chiamano decreto Renzi o il Jobs Act adesso non so chi fosse il primo firmatario cioè è veramente però capite questo un po' secondo me è un po' sminuita questa legge cioè il fatto che sia diventata una battaglia da influencer una battaglia di una persona che per caità meno male che l'ha fatta dal mio punto di vista però ecco stiamo un po' riducendo la politica veramente a battaglie per i like e associate a dei nomi piuttosto che veramente a delle delle discussioni politiche quindi io sono come avete capito a favore accetto che ci sia dibattito anche su alcune tematiche l'unico che non accetto il tema sull'identità perché l'identità di genere è una tematica di grande sensibilità e delicatezza che veramente coinvolge la vita di persone che sono discriminate da mondi come arci lesbica e come alcuni movimenti ultracattolici che stranamente si incrociano in questo campo dove queste persone soffrono dieci volte di più proprio per questa ragione sì che ci siano cattiverie e malvagità come le hai definite non c'è il minimo dubbio che queste poi però possano essere debbano essere sanzionate io sono molto scettico se devo rispondere in maniera secca io sono tendenzialmente però il reato c'è già comunque c'è il reato di discriminazione di stigazione a delinquere per motivi sì però per esempio c'è una reclusione da sei mesi a quattro anni per chi partecipa o aiuta a organizzazioni che hanno fra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza sulla violenza magari potremmo anche parlarne ma l'incitamento alla discriminazione non si sa da dove comincia però quando discriminavano gli ebrei perché non dovevano sposarsi con i cristiani o non potevano partecipare ai partiti cioè quelle sono leggi che impedivano da parte dello Stato a una determinata categoria di fare determinate cose queste qui sono opinioni ecco senza arrivare al paradosso per cui discriminare e scegliere l'odi liberale se un giorno l'odi liberale che non lo farà mai dirà noi il nostro obiettivo è fare in modo che le persone transessuali non abbiano diritto di voto ecco diciamo quella è un'azione volta ad una discriminazione che credo che dovrebbe magari non con quattro anni di carcere ecco però che potrebbe essere scusa se anche l'interlocuzione non è tanto l'odi liberale non lo farà mai ma al netto di quello se anche lo facesse il problema non sarebbe l'odi liberale il problema sarebbe la legge approvata questa è un'associazione privata ma come tante altre che esprimono delle idee quindi ripeto è come se io non volessi faccio l'esempio sul regolamento condominiale con Stefano Moroni l'abbiamo parlato mille volte non è possibile banalmente avere un regolamento condominiale che impedisce di vivere tra persone che non hanno animali è una discriminazione nel senso che questo stai discriminando però spicca è solo anche lì adulti consenzienti che decidono di fare un condominio animal free non capisco perché debba non possa essere fatta quindi boh non lo so volevo però Rick vedo che volevi intervenire perché credo che no no cioè nel senso il problema io di nuovo di principio sono d'accordo con quello che dice Lisa il problema è che la legge è scritta cioè non è scritta se leggi il testo la legge secondo me inserisce delle questioni che sono sono molto molto troppo sfumate ecco se vuoi fare quella è che è una legge che non va fino in fondo in realtà questo è il vero problema dal mio punto di vista e quindi è una legge che in realtà quando ti dice la discriminazione lo ribadisco ho fatto l'esempio ai family day e lo ribadisco sono totalmente distante ma lì si è discriminato cioè lì c'erano centinaia di persone che dicevano che in realtà c'è proprio stato anche un comizio in cui una persona diceva io non vorrei mai vivere accanto a una persona che ha che affitta l'utero agli altri ok è palesemente una discriminazione una discriminazione detta centinaia di persone una discriminazione quindi che può potenzialmente può anche scatenare gli animi di qualcuno che fai con quello ora io non voglio cadere nella fallaccia della bruttacchina perché le fallacce logiche non mi piacciono però bisogna dibatterla questa cosa qua bisogna dibatterla non c'è non si può dire semplicemente vabbè poi la gente interpreterà la legge nel modo migliore perché quando tu poi metti questo tipo di leggi nelle mani delle persone che devono applicare sai la legge deve essere il più precisa possibile dire ed essere in linea con le sue intenzioni la critica che faccio io a questo DDL è che secondo me non è in linea con le sue intenzioni il modo con cui è scritto poi insomma però va dibattuta questa cosa qua mi permetto di sommessamente essere disaccordo anche sul fatto che chi dovesse dire non voglio vivere di fianco a uno che pratica l'utero in affitto è discriminazione perché è discriminazione se io non do case pubbliche a chi ha un comizio pubblico se una persona che ha un impatto politico e pubblico dice una roba del genere con l'intento di divulgare quel tipo di pensiero dico può essere interpretato come una discriminazione sono d'accordo che non lo è ok però di nuovo dov'è che metti il confine cioè è quel problema il problema di queste leggi è e lo è sempre stato quindi vabbè però qua veramente è proprio per quello che per cui secondo me non ci deve essere il confine nel senso che se no davvero tutto diventa discriminazione cioè esprimere un'opinione e il problema è appunto per seguire il tuo esempio è quando tu a una determinata categoria impedisci di fare qualcosa per legge non perché un privato dica perché li tiri fuori a forza cioè nel senso quando c'è proprio un atto è quello che va sanzionato però potranno autodenunciarsi secondo un metodo radicale queste persone appunto andando in piazza dicendo io non credo che le persone transessuali debbano avere questi diritti eccetera si autodenunceranno e a quel punto la corte costituzionale potrà intervenire e dire se questa legge è giusta o sbagliata cioè a un certo punto io apprezzo molto il metodo radicale perché noi non è che obbediamo a tutte le leggi cioè Marco Cappato quando è andato a aiutare al suicidio varie persone lui ha infranto una legge sulla carta si è autodenunciato e come tante altre persone quindi poi ha creato il caso giudiziario visto che mancava una legge diciamo in realtà la legge c'era infatti il PM ha chiesto la condanna per aiuto al suicidio quindi se queste persone io questo lo dico sempre a tutti cioè se c'è una legge che sulla base chiaramente di appunto tematiche di questo tipo di coscienza che uno reputa ingiusta ma denuncia crei il caso vediamo se a livello costituzionale no dice di no Rick no perché vedi c'è una differenza c'è una differenza netta con quello di Marco Cappato Marco Cappato ha fatto un atto misurabile cioè la morte di DJ Fabo è un atto ineluttabile che nessuno può negare una legge che invece sanziona la discriminazione anche volendo tu non puoi fare un atto misurabile e questo è il problema grosso di questo tipo di leggi io ok violo una legge che mi vieta di discriminare i pesci rossi cosa che devo fare devo andare in piazza a dire che i pesci rossi sono tutti dei bastardi che fanno violenza psicologica sui loro figli o non basta devo andare a dire che ho visto un sacco di pesci rossi rubare nei negozi dei pesci palla non è non è una cosa misurabile quindi io sono d'accordo con te però l'esempio non vale in una legge che tratta la discriminazione capisco il punto non posso anche volendo potrei non poterla violare il Parlamento non abbia fatto una legge diciamo elevata come scusa no dico purtroppo è successo spesso che insomma le leggi non fossero perfette ecco in Italia nel bene e nel male che fossero incomplete però insomma quando si vuole legiferare sulla discriminazione si creano dei problemi enormi dei problemi enormi che poi poi devi 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 sperare che vengano applicate nel modo più ragionevole comunque neanche gli Stati Uniti sono riusciti in alcuni casi a gestire queste tematiche ricorderete la pasticceria che non voleva fare la torta alla coppia gay e c'era stato tutto il caso cioè ci sono temi che anche in paesi che hanno una cultura politica più avanzata o almeno da più tempo diciamo in opera anche lì ci sono state mille discussioni non è vero è vero ma è infinito è infinito quindi non non è una roba che risolveremo in sei mesi così è una roba che ci porteremo avanti per un bel po' sinceramente va anche bene così finché se ne parla però permettetemi proprio l'esempio della pasticceria è paradossale ma per il senso probabilmente opposto a quello che hai voluto introdurre tu nel senso che c'è un diritto da parte di una coppia gay ad avere una torta dal pasticceria che sceglie o c'è un diritto di poter decidere il proprio acquirente di qualcosa che vendo quindi boh c'è nel senso che anche c'è un servizio pubblico però in Italia per esempio un taxi lo so perché lavoravo in Uber noi giocavamo su questo fatto che Uber era un servizio privato quindi poteva accettare o non accettare le persone mentre i taxi sono per legge servizi pubblici come i negozi e sono sottoposti ad una normativa differente in cui non possono impedire l'accesso a persone o la vendita di servizi perché lì si verifica un atto di discriminazione quindi è veramente è un argomento e assolutamente lo reputa totalmente sbagliato nel senso che a limite si dovrebbe però un taxi non può rifiutare lì non è di nuovo lì non è sbagliato per la misurabilità dell'atto tu stai sottraendo una persona è una cosa che puoi misurare la discriminazione se è misurabile può essere perseguita cioè io sono convinto di questo se domani se domani io trovo un esercizio pubblico pagato quindi dalle tasse dei cittadini che dice ascolta tu c'hai i baffi e il pizzetto rosso io c'avevo uno zio che faceva così e mi picchiava da piccolo non voglio saperne nulla di te io è giusto che sulla base di qualcosa che desidero ma non posso avere di un esercizio pubblico poi fa tutta differenza del mondo possa perseguire perché è misurabile il danno che mi fai fin tanto che la discriminazione in un ambito di misurabilità allora se ne può parlare quando si perde la misurabilità allora si è nell'impasto dell'arbitrio e l'arbitrio ragazzi è un casino immane io non voglio mai ritrovarmi ci in mezzo se possibile ecco sì anche se al limite questo ragionamento come dire potrebbe valere se tu sei l'unica pasticceria della città se ce n'è un'altra molto semplicemente vai da un'altra parte nel senso però loro fanno i maritozzi che mi fanno impazzire capito e io i maritozzi così non li trovo in nessun'altra parte tu me li fai perché altrimenti non mi taglio i baffi non mi taglio i baffi per i tuoi maritozzi e quello è un po' il punto guarda tu lo dici a una così introduco un elemento personale io ho fatto per 30 anni l'arbitro di calcio a un certo punto sono arrivato in prima categoria e avevo i capelli a metà schiena quindi arbitravo col codino e avevo l'orecchino ad anello dopo una dirigenza insomma una riunione con il vertice regionale mi si disse all'epoca che chiaramente l'arbitro non poteva avere i capelli lunghi non poteva arbitrare col codino perché dove andai perché nel senso che è una questione di credibilità eccetera e quindi l'alternativa fu o ti tagli i capelli o torni in sezione sostanzialmente a fare le partite giovanili arbitrare i ragazzini chiaramente scelsi la seconda strada non mi tagli i capelli il giorno dopo che mi segarono mi rasai a zero per protesta quindi queste cose personalmente guarda orecchini da entrambe e otto anni di arbitro di pallacanestro quindi ti capisco bene ho battagliato ma non mi sono mai tolto gli orecchini non mi tolgo ancora adesso per ancora in virtù di quella protesta quindi capisco perché sono motivazioni assolutamente morali quindi le capisco queste battaglie ma poi quando si traducono nella limitazione della libertà anche banalmente imprenditoriale altrui divento meno comprensivo ecco da questo punto di vista nonostante ci sia la finalità credo che questo meriterebbe come dire una serata da sola vi faccio un'unica domanda conclusiva poi ci avviamo davvero alla fine saluti un motivo per cui un ventenne oggi un quindicenne oggi perché lo faccio sempre quando trattiamo i classici debba leggere Mil uno dovreste consigliare a un ragazzo di 18 anni di 20 anni che ci sta seguendo oggi perché Ric perché è un testo che ti insegna che non sei un sasso rotolante in un'epoca in cui in tanti siamo convinti di questo che siamo mossi per inerzia e forze a noi sconosciute è un testo che secondo me va letto prenditi le tue cazzo di responsabilità e leggi John Stuart Mill caro ventenne questo secondo me è il messaggio che manderei potrei metterti come citazione nelle nostre citazioni della pagina ma letterale però Alessio lo consiglierei per esercitare la mente perché fa tanti esempi ti aiuta a riflettere sugli argomenti specifici ad analizzarli da capo a coda ed è una cosa che i ragazzi devono imparare a fare Elisa mi accodo sostanzialmente è un'introduzione è utile è facilissimo da capire è anche abbastanza breve e quindi è un bellissimo esercizio di entry level come fare un piccolo allenamento per la mente sui temi della libertà ho preso un impegno con Rick Dufer che ho già sforato di dieci minuti quindi nonostante noi diciamo che non finiamo mai prima delle 22.30 tendenzialmente arriviamo alle 23 ma non voglio abusare della disponibilità di Rick Dufer quindi prima di ringraziarvi vi invito alla prossima serata che la vedete in sovrimpressione si sarebbe detto un tempo ovvero la settimana prossima presenteremo il libro di Carlo Cottarelli all'inferno e ritorno per la nostra nostra inascita sociale ed economica insieme all'autore a Nicola Porro e a Ettore Gotti Tedeschi credo che sarà un dibattito particolarmente stimolante con uno dei principali come dire divulgatori economici se non economisti italiani credo apprezzato da credo tutti noi quindi grazie a Rick Dufer per la prima di una lunga serie facciamo i classici ogni due settimane quindi sappi già che sarai come dire cammellato astuto la prossima volta grazie davvero per la tua disponibilità grazie a voi grazie per l'invito ciao Alessio ciao Elisa e niente alla prossima grazie Alessio grazie per essere anche tu per aver debuttato aspettiamo con impazienza i sofismi economici ripubblicati all'Istituto Liberale che presenteremo sicuramente di Bastia all'Odi Liberale quindi grazie e devo ricordarmi di rinnovare perché ti ho detto il mio presidente per quest'anno l'ho ancora rinnovato quindi provvederò entro domani e grazie Alisa Serafini per essere tornata per l'ennesima volta tra di noi buonanotte a tutti